Con le 16 maggio l'esame del Decreto Legge in materia di elezioni regionali ed amministrative, atto Camera 3059, con svolgimento della discussione generale alle ore 9.30 e votazioni a partire dalle ore 11.30. Sempre secondo tale intesa, dopo l'esame del Decreto Legge, sarà iscritto all'ordine del giorno il seguito della discussione degli argomenti attualmente previsti per la seduta di giovedì. Si tratta in particolare delle mozioni concernenti, iniziative in merito all'emergenza umanitaria relativa al campo profughi di Yarmouk in Siria, iniziative volte a garantire agli enti locali adeguati trasferimenti di risorse, iniziative in materia di esenzione dal limo per i terreni agricoli, iniziative di competenza in ordine alla razionalizzazione della rete degli uffici postali, iniziative per la promozione dell'educazione alimentare nelle scuole. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito. Comunico che d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, la delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare INCE, è convocata nella giornata di giovedì 7 maggio 2015 alle ore 8 presso il Senato della Repubblica per il terzo scrutinio per l'elezione del Presidente. L'aula della riunione sarà comunicata successivamente. Comunico che in data 4 maggio 2015 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali e anche straniere, il Senatore Giuseppe Pagano in sostituzione del Senatore Giovanni Bilardi, dimissionario. Hanno chiesto la parola a fine seduta alcuni colleghi. Il primo è Ernesto Preziosi, prego ne ha facoltà. Colleghi, potete allontanarvi dall'Aula, ma vi pregherei di farlo a voce bassa, meglio se in silenzio. Prego, onorevole Preziosi. Signor Presidente e colleghi, volevo segnalare quanto nei giorni scorsi è stato dichiarato con allarme dalla Federazione Italiana Settimanali Cattolici e segnatamente il fatto che il nuovo piano industriale di poste italiane avrebbe un impatto in merito alla consegna della corrispondenza in giorni alterni. È un impatto che si diffonde e danneggia in qualche modo la piccola stampa, una stampa che ha un radicamento territoriale, soprattutto in zone interne del Paese, in zone di minore frequenza di percorso della grande stampa e che ha nella tradizione dei settimanali cattolici un punto di fronte.